È giunto alla ventitresima edizione il premio letterario internazionale L'Aquila Biper intitolato alla Domi a Bonanni, il cui ospite d'onore quest'anno sarà Durs Grumbain. La cerimonia di premiazione di uno dei premi di poesia più longevi ci sarà il 16 novembre alle 11 al ridotto del Teatro Comunale. Come sempre ampio spazio agli studenti. Molto atteso, l'incontro con i detenuti del carcere Le Costanelle di Preturo, ormai un punto fermo, momento nel quale i detenuti di tutti gli istituti italiani che partecipano al premio potranno trovare spazio nella lettura dei componimenti vincitori. L'Aquila Capitale della Cultura ci dà un segnale di forte attenzione per il nostro territorio, non solo per la città dell'Aquila ma per l'intera regione. Biper è presente, come diceva correttamente lei, al fianco del premio intitolato alla Domi a Bonanni da tempo, lo sostiene e è soddisfatta di questo binomio nel quale la banca, oltre alla sua attività tradizionale, fa quell'attività di supporto a tutte le attività culturali nella loro espressione più ampia. Il premio laudomia Bonanni è una delle espressioni più belle, più interessanti, più importanti oggi a una caratura internazionale alla quale la banca si è avvicinata da tempo e che continua a sostenere con una prospettiva da qui al 26, quando ci sarà la Capitale della Cultura nella città dell'Aquila, una prospettiva di ulteriori interventi sul territorio a sostegno dei momenti culturali. Per quel che riguarda l'ospite d'onore, Durst Grumbain, oltre ad essere docente di poesia ed estetica, ha pubblicato 16 raccolte di poesie, un diario, un libro di memoria in prosa, 5 saggi, è membro dell'Ordine al Merito delle Scienze e Arti in Germania, tanti i premi ricevuti. La sua poesia è stata ampiamente acclamata e tradotta in molte lingue. Il grande autore, il grande ospite d'onore è Durst Grumbain, che in questo momento è considerato uno dei massimi poeti contemporanei. Nasce a Dresda, nella Germania dell'Est, e si porta nella sua poetica tutto questo vissuto. Sarà molto bello ascoltarlo e dialogarci. E poi i finalisti, li confesseremo la terna dei finalisti fra qualche giorno, ma posso assicurare che sono veramente il top della poesia italiana.